Buongiorno, è il 20 ottobre, siamo al Teatro Lido di Ostia e stiamo intervistando Edoardo Zanchini che è il Vice Presidente Nazionale di Lega Ambiente. Ad Edoardo Zanchini vorremmo chiedere. In Italia esiste una normativa già dal 2006, la legge 296, che prevede che il 50% delle nostre coste, delle spiagge, in particolare non delle coste, delle spiagge, deve essere destinato a spiaggia libera. Vorremmo sapere da Edoardo Zanchini se trova che questa norma sia rispettata se c'è una tendenza a far sì che questo avvenga. In teoria c'è questa legge, poi ci dobbiamo ricordare che in realtà le spiagge sono di tutti, le spiagge sono un bene demaniale inalienabile, quindi sono di tutti noi. In realtà nel nostro Paese negli anni è andato crescendo il numero di stabilimenti in modo tale per cui oramai quasi il 60% delle spiagge in media in tutta Italia è in concessione e quindi in molte parti è proprio inaccessibile. Questo vuol dire che se il 60% in media ci sono delle zone in cui addirittura si arriva al 90%, ci sono dei tratti di chilometri e chilometri in cui praticamente è vietato accedere alla spiaggia senza pagare. Questo in tante regioni italiane. Anche nel Lazio purtroppo ci sono molti comuni, molti tratti in cui è praticamente impossibile accedere al mare senza pagare, è un evidente ingiustizia. La regione Lazio ha approvato appunto una norma che prevede che almeno il 50% della spiaggia sia libera. Il problema è che nessuno è ancora mai entrato dentro quelle che sono le regole appunto in cui i comuni hanno definito questi spazi e quindi abbiamo situazioni anche a Roma, a Ostia, in cui per chilometri tu hai di fronte dei muri che ti fanno quasi pensare che in effetti quella è un'area privata. Non è un'area privata. Noi abbiamo il diritto di entrare in quella spaggia e di andare al mare e di sdraiarci gratis e quindi chiediamo appunto che questa legge venga fatta rispettare. Allora non soltanto sulle spiagge libere il cittadino ha diritto di sdraiarci, ma sempre ai sensi della legge 296 del 2006 ha diritto di farlo anche negli stabilimenti. Allora richiamavi la legge regionale numero 8 che prevede appunto il 50% di spiagge libere. C'è un emendamento del professor Fabiani che dice che questo 50% di spiagge libere all'interno di un comune deve oltretutto essere organizzato per comparti. Mi spiego. Qui a Ostia non è che il 50% di spiagge libere ce lo devono dare verso l'idroscalo, il 50% anche nella fascia del centro storico. Allora ci siamo sempre posti una domanda. Non so se tu hai dato una soluzione. Quando si parla di 50% come deve essere inteso? Nel senso della lunghezza oppure nel senso dei metri quadrati il 50% di spiagge libere? Intanto cominciamo dalla lunghezza, però poi bisogna stabilire delle regole. L'obiettivo dovrebbe essere quello per cui si passa da una legge che dà dei numeri a poi delle applicazioni nei comuni che sono di buon senso, per cui si evita di avere una continuità di spazi inaccessibili per cui appunto uno deve viaggiare addirittura in macchina in alcuni casi perché è troppo lontano e quindi ci deve essere questo diritto in lunghezza ma anche in profondità e poi in modo da dare a tutti la possibilità di accedere al mare sapendo che ci sono degli spazi liberi. In più c'è non solo un tema di accessibilità, c'è anche un tema di visibilità, cioè di vista del mare. Noi Roma ci siamo abituati, soprattutto a Ostia, al fatto che il mare sia una proprietà privata di qualcuno e che quindi può alzare i muri che vuole e quindi appunto questo lungo muro perché il mare è proprio invisibile. Non è così, cioè quella spiaggia è in concessione, è il comune che decide come deve essere fatto il muretto durante i mesi invernali, come devono essere gestite quelle aree. In larga parte d'Italia nei mesi da ottobre a aprile quelle spiagge sono accessibili, ci si può andare a fare le passeggiate, si può vedere il mare, sono di tutti noi, per cui appunto quando non sono attrezzate devono essere libere. Perché questa cosa non succede a Ostia? È del tutto inammissibile perché anche questa cosa deve essere cambiata. Posso fare una domanda cattiva? Allora in merito a tutte queste denunce, a tutte queste denunce delle situazioni, intendo dire che da anni Legambiente ha rilevato, mi ricordo anche di un libro bianco fatto da Legambiente sulle spiagge di Ostia. Quali sono state le iniziative giudiziarie? Cioè se lì c'è un muro, questo muro è abusivo, c'è un PUA del 2005 che prevede che i muri di recinzione verso l'esterno possano avere altezza non superiore a 90 centimetri e debbano essere non in muratura ma con decoroso sistema a giorno. Legambiente in tutti questi anni ne ha denunciato, senz'altro. Ma alla Procura della Repubblica o presso altre magistrature che cosa ha fatto rispetto appunto a questo lungo muro? Ahimè, questa è la triste storia di Ostia e poi vediamo anche dalle cronache il fatto appunto che ci sia stata una collusione evidente tra chi gestiva qui il municipio, tutto il sistema appunto che controllava e che ancora controlla in larga parte il sistema degli stabilimenti, un sistema di interessi fortissimo che riusciva anche appunto a evitare che poi certi denunci andassero avanti. Noi questo non dobbiamo accettare, cioè anche di fronte a questo muro di omertà in questo caso, oltre al muro che c'è di fronte al mare, non lo dobbiamo accettare perché è un diritto di tutti noi, dobbiamo andare fino in fondo. Tra l'altro oggi la forza di questi interessi si è indebolita e noi dobbiamo sfruttare anche un'opinione pubblica che chiede tutto questo, anche perché poi se tu chiedi alle persone di Ostia se sono felici queste situazioni, non lo sono affatto, solo che appunto è questa omertà, questo tentativo di abbassare sempre appunto un muro di silenzio sopra queste denunce che noi dobbiamo riuscire a sconfiggere tutti assieme e appunto farlo con tutte le associazioni e tutti coloro che si sono battuti in questi anni è sicuramente quello che dobbiamo fare nei prossimi anni. Grazie, grazie a Edoardo Zanchini, grazie a Liberi TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.